Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Sotto passi della 14 al buio, l'assessore ai lavori pubblici annuncia resteranno spenti perché accenderli costerebbe troppo Porta i cani a passeggio e nota che lì è pieno di zecche il racconto di una ragazza e i consigli del veterinario A Urbino è polemica per una gara podistica autorizzata dal comune per le vie del centro al posto della processione della Domenica delle Palme A Mombaroccio una cena di solidarietà per aiutare i terremotati Buonasera dalla redazione di Occhio alla Notizia Benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale Iniziamo dalla cronaca e da un incidente stradale che si è verificato questa mattina poco dopo le 9 in via Pertini a Fano tra una Fiat 500 e uno scooter Vespa Secondo i primi accertamenti la Fiat 500 condotta da un fanese di 40 anni incolonnato in direzione della 14 per caso ancora in fase di valutazione è uscito dalla colonna con l'intento di fare inversione di marcia mentre in quel preciso istante sempre nella stessa direzione di marcia è sopraggiunto uno scooter Vespa guidato da un 27enne del luogo che urtando la fiancata dell'auto è caduto a terra sul posto di sanitaria del 118 che hanno provveduto a trasportare in ospedale a Fano il motociclista non in gravi condizioni la polizia locale ha eseguito i rilievi del caso e ha regolato la circolazione che data l'ora ha subito diversi rallentamenti e a Lucrezia di Cartoceto una brutta avventura per una ragazza e i suoi due cani durante una passeggiata ha dovuto affrontare il pericolo delle zecche Animali fantastici e dove trovarli verrebbe da dire raccogliendo la testimonianza di una spettatrice e scherzando sul titolo di un film di animazione peccato che quelli che i nostri cuccioli incontrano per le strade di fantastico non hanno proprio nulla con l'arrivo della primavera camminando per le nostre campagne ci sono buone probabilità di notare che il nostro fedele accompagnatore non sia proprio così rilassato prima di noi infatti i nostri amici a quattro zampe avvertono la presenza dei parassiti che possono causare disturbi e danni molto importanti sia per loro che per noi si tratta di zecche, pulci e le pericolosissime processionarie bruchi pelosi con l'abitudine di muoversi in fila formando una sorta di processione e che possono essere letali per gli animali avevo in mente di fare un'oretta di cammino con i miei cani a pochi minuti qui mi sono resa conto che la cagnolina Madison aveva qualcosa sul suo pelo appunto è bianca quindi si vedeva bene guardando meglio erano a zecca e quindi ho preso un bastoncino cercando di farla cadere dopo qualche passo vedo anche Giango il secondo mio cane che ne aveva tre comunque hanno entrambi il collare antipulci e antizecche e il giorno precedente gli avevo fatto proprio un bagnetto preventivo per i parassiti quindi erano coperti e le zecche infatti non si sono infiltrate fino ad arrivare alla pelle sono rimaste sul pelo il periodo di maggior contatto inizia marzo e dura almeno fino alla fine di aprile se il vostro cane dovesse venire a contatto con questi animaletti i sintomi sarebbero piuttosto immediati nel caso delle processionarie il primo è l'improvvisa intensa salivazione a cui fa spesso seguito il vomito ed evidenti segni di debolezza il rifiuto del cibo e sintomi febbrili le conseguenze potrebbero essere fatali per l'animale e pertanto è necessario agire con la massima tempestività e portare il prima possibile l'animale dal veterinario possono trasmettere patologie molto importanti a volte gravi e mortali per i nostri cani e anche i gatti alcune di questi insetti possono anche essere pericolosi per l'umano come le processionarie per cui va assolutamente tenuta sotto controllo e segnalato qualora si vedano processionarie e nidi di processionarie per poter bonificare l'area possono causare delle lesioni molto gravi ad esempio alla lingua fino a appunto lesioni necrotiche che portano alla caduta di alcuni pezzi appunto di alcune parti di tessuto della lingua fino a dare reazioni generalizzate molto gravi per quanto riguarda le altre invece già accennate per quello che appunto concerne le zenzare possono essere veicolo di trasmissione di malattie come la lesmagnosi e come la filariosi cardiopolmonare malattie molto importanti soprattutto nella nostra zona a tenere sotto controllo pulce e zecche possono appunto trasmettere altre malattie che causano tendenzialmente gravi forme di anemia cosiddette appunto malattie da zecche e ora torniamo ad occuparci dei sottopassi al buio dopo il nostro servizio di qualche settimana fa siamo andati a sentire a questo riguardo l'assessore lavori pubblici Cristian Fanesi sentiamo che cosa ci ha dichiarato Assessore a distanza di qualche settimana che cosa possiamo rispondere esidenti di Centinarola e non solo su questi sottopassi senza luci e completamente al buio nelle ore notturne allora il problema c'è viene se volete anche da lontano viene da lontano perché dal momento che l'autostrada per l'Italia ha messo in opera il lavoro della terza corsia ha rifatto anche i sottopassi che ancora non sono stati presi in carico dal comune di Fano non sono stati presi in carico dal comune di Fano perché nonostante le nostre richieste legittime e anche tecnicamente molto valide non hanno voluto modificare l'impianto di illuminazione dei sottopassi scusate quindi sicuramente nel caso in cui dovessimo prendere in carico la gestione l'allaccio di quei sottopassi avremo dei problemi si sta parlando di faretti di vecchia generazione a sodio alta pressione sono circa 219 faretti non ovviamente solo nel sottopasso di Centinarola ma in tutti i sottopassi carrabili che attraversano il territorio di Fano e che attraversano soprattutto l'autostrade e quindi porterebbero un costo per l'amministrazione comunale di 30.000 euro all'anno solo se li ascendessimo tutti non abbiamo preso in carico questa cosa perché avremmo voluto che Autostrade se li consegnasse a LED producendo una spesa di gestione molto più bassa 7.000 diciamo contro 30.000 euro per cui quello che vorremmo fare appena non appena diciamo avremo le disponibilità è di sostituire i faretti di vecchia generazione che il progetto sin dall'inizio prevedeva per cui Autostrade è installato con proiettori a LED che nonostante portino diciamo lo stesso apporto di illuminazione stradale hanno un costo enormemente inferiore rispetto a quelli attualmente previsti diciamo che c'è anche una questione se volete particolare se dovessimo accendere veramente tutti i faretti avremmo una luce diciamo con un euferismo molto intensa sotto i sottopassi quindi potrebbe procurare anche dei disagi diciamo chi usa la macchina e Monbaroccio la Proloquo ha organizzato una cena di beneficenza sostegno dei terremotati della nostra regione vediamo che cosa è successo venerdì sera è stata una bellissima serata e direi anche soprattutto emozionante ci sono stati dei momenti di veramente anche di pianto diciamo così di proprio essere così franchi è stata una bellissima serata che la Proloquo e tutte le associazioni del comune hanno deciso che il ricavato della cena doveva essere devoluto al comune alla Proloquo di Gualdo quindi è stata una serata all'insegna della beneficenza un aiuto ai nostri fratelli delle Marche che sono veramente stati colpiti da questo gravissimo terremoto è stata una bella serata una bella serata alla presenza di tantissime autorità il quale va nel nostro caloroso ringraziamento del vice presidente del consiglio regionale Renato Claudio Minardi del sindaco di Monbaroccio e di tante altre istituzioni in particolar modo del sindaco di Gualdo del presidente della Proloquo di Gualdo ospiti d'onore e anche ospiti di eccezione e quella sera è stata per me una serata emozionante perché la Proloquo e la mia stessa persona è stata definita una macchina da guerra una macchina da guerra che si è contraddistinta proprio ecco col Natale che non ti aspetti dove è visto in campo 250 volontari grazie a tutti questi volontari siamo riusciti a fare questo atto di beneficenza tutti i volontari tutte le associazioni nessuno si deve sentire escluso da questo ringraziamento perché grazie a tutto l'impegno dei monbaroccesi che si è potuto fare una serata di beneficenza ma è stato anche un momento di festa e di ringraziamento per tutti i volontari cambiamo argomento si chiama Impresa in Azione ed è un progetto del Ministero dell'Istruzione Italiano per i nostri studenti sentiamo di che cosa si tratta Impresa in Azione è il più diffuso programma di educazione imprenditoriale nella scuola superiore che in 12 anni ha coinvolto più di 41.000 studenti italiani 18.000 nell'anno scolastico 2016-2017 e oltre 310.000 ogni anno in tutta Europa dall'anno scolastico 2015-2016 Impresa in Azione è ufficialmente inserito tra le esperienze di alternanza scuola-lavoro riconosciute dal Ministero dell'Istruzione le classi partecipanti costituiscono delle mini-imprese a scopo formativo e ne curano la gestione dal concept di un'idea al suo lancio sul mercato questo percorso ricco di contenuti e strumenti consolidati offre un'esperienza professionalmente a stretto giro con le aziende e il mondo esterno per la sua praticità e vicinanza alla realtà agevola lo sviluppo di un set di competenze tecniche e trasversali fondamentali per tutti i giovani indipendentemente dai loro interessi lavorativi futuri noi con le nostre telecamere siamo stati in una classe del liceo scientifico Torelli di Fano che partecipa a questo progetto Greta Cetrone responsabile dell'amministrazione io sono Laura Gai e sono responsabile vendite e tu invece? io sono Cano Tommaso e sono il direttore dell'area marketing e tu? Tommaso Rondini direttore dell'area finanziaria è partito il progetto a ottobre e dai primi di novembre siamo stati operativi facciamo due ore alla settimana dall'una e mezza alle tre e mezza ma i ragazzi in realtà molti di loro elaborano a casa anche documentazione progetti vanno a prendere materiale lo modificano si vedono in gruppo quindi ha coinvolto molto la classe inoltre dall'inizio alla fine ho visto dei risultati perché questi ragazzi hanno acquisito una certa maturità un certo livello di problem solving perché ogni cosa viene discussa e si mette ai voti quindi anche un processo democratico di decisione perché poi avete deciso di realizzarlo in questo modo i materiali e come materialmente lo avete pensato abbiamo pensato di realizzarlo dapprima in alluminio perché ci sembrava un materiale molto più resistente ed eravamo entusiasti di realizzarlo molto resistente che potesse durare allora perché avete deciso per un oggetto come questo? diciamo che all'inizio la classe ha dato varie proposte però noi abbiamo scelto questo prodotto perché comunque nasce dall'esigenza di noi studenti perché veniamo a scuola con degli zaini veramente pesanti condizionari e quindi è nata per noi studenti poi però l'abbiamo allargata a vari target d'età quindi anche una persona più anziana può usarlo per fare la spesa oppure dei genitori per portare dei giochi del figlio al mare bene complimenti a questi ragazzi così ardimentosi allora cambiamo argomento parliamo delle vostre segnalazioni sempre utili per la nostra redazione andiamo a Lucrezia di Cartoceto dove lungo la via Flaminia ci sono delle strisce pedonali rimaste a metà un problema per i pedoni che spesso in questo tratto di strada così trafficato e con scarsa visibilità in passato sono stati vittime di incidenti e vi ricordo che a vostra disposizione per inviarci segnalazioni o foto su whatsapp avete il numero a disposizione 338 49 68 250 ed ora domani mattina verrà chiuso al traffico il ponte di Varano sul torrente Arzilla quello che collega le frazioni di Fenile Centinarola di Fano il ponte resterà chiuso indicativamente dalle 8 alle 12 per permettere i piccoli lavori di completamento che interessano tutta la carreggiata e ad Urbino è polemica per una gara podistica autorizzata dal comune per le vie del centro al posto della processione della Domenica delle Palme vediamo e sentiamo sempre profano spesso convivono in particolari occasioni e ricorrenze i confini spesso diventano molto sottili e si sfumano uno nell'altro fino a confondersi avviene già per il Natale e anche la Pasqua non è scevra da queste miscellanee aspetti liturgici ed evocativi della Passione di Cristo che convivono con le più terrene fatiche e sofferenze degli sportivi come in una corsa podistica o di una partita di calcetto obbligando fedeli e non a delle scelte o a delle privazioni a Urbino un'antichissima processione che arriva nella chiesa di San Domenico mai interrotta nemmeno in tempo di guerra è stata scalzata da una stracittadina una gara sportiva che invade il percorso della Sacra Rappresentazione proprio nella Domenica delle Palme ed è stata autorizzata dall'amministrazione comunale svista dimenticanza sbadataggine sta di fatto che ormai la frittata è fatta e tra l'imbarazzo di tutti arci diocesi sindaco amministratori si è cercato di trovare una soluzione che accontentasse tutti ma nell'accontentare tutti si scontenta anche tutti e così i confini e le sfumature diventano sottili come dicevamo l'evento religioso dovrà convivere con quello sportivo i due momenti dovranno dividersi la piazza canti religiosi e tifo nella bellissima piazza Urbinate nella più vicina a Calcinelli una società sportiva dilettantistica di calcio per i suoi giovani atleti ha calendarizzato per la Domenica delle Palme un incontro amichevole in una compagine di Urbania obbligando così genitori e ragazzi ad una scelta la trasferta o la benedizione delle Palme conflitti anziché comunioni chiunque vince in questi casi perde perde qualcosa in occasione della giornata mondiale della gioventù diocesana domani venerdì 7 aprile alle ore 20 in programma la via Crucis cittadina con il vescovo Armando Trasarti si partirà dal piazzale della parrocchia di San Paolo Apostolo al Vallato per raggiungere percorrendo le vie Anna Franche Gabrielli Giordano Bruno Cavour Corso Matteotti via Orco d'Augusto con arrivo in cattedrale la via Crucis di quest'anno ha sottolineato Don Steven Carboni responsabile del servizio diocesano di pastorale giovanile segna anche l'inizio del percorso verso il sinodo dei giovani del 2018 sul tema i giovani la fede e il discernimento vocazionale per questo il tema di quest'anno sarà dedicato alle 10 stazioni che parlano degli incontri di Gesù nel triduo pasquale sulla via della croce e parliamo di proloco perché per una consolidata come quella di Monboroccio c'è una partenza per una che si inaugura proprio da poco è partito stamattina il tesseramento per quella che sarà la neonata proloco di Cantiano al via quindi il percorso di coinvolgimento di tutte le forze del paese al fine di rilanciare l'attività l'auspicio è quello di un'ampia partecipazione in modo che tutti si sentano attori protagonisti e corresponsabili nel progettare al meglio il futuro della comunità il tesseramento proseguirà domani e sabato mattina all'ingresso del palazzo comunale di Cantiano in più vi ricordiamo che sabato alle ore 10 verrà inaugurata al Furlo la nuova sede della proloco Passo Furlo e questa mattina andiamo a Pesaro perché c'è stata una visita importante il comandante generale dell'arma dei carabinieri Tullio del 7 ha fatto visita al comando provinciale dei carabinieri di Pesaro l'alto ufficiale è stato accolto dal comandante provinciale il tenente colonnello Marco Filoni e il generale ha elogiato i suoi uomini per lo spirito di sacrificio e la professionalità con i quali vengono condotte quotidianamente le attività di prevenzione e di contrasto alla criminalità ed ora chiudiamo con una breve di sport parliamo di vela perché Giacomo Giovannelli apre alla grande la stagione velica 2017 nella classe olimpica FNNI si classifica al terzo posto della regata di apertura della Coppa Italia 2017 ad inizio un vento sui 15 nodi ha permesso di disputare due prove sabato e due domeniche con una vittoria nell'ultima prova prossimo appuntamento per la Coppa Italia a largo di Caldaro il 29 e 30 aprile prossimi bene con questa notizia chiudiamo questa edizione del telegiornale grazie per essere stati con noi domattina la rassegna stampa e poi domani sera naturalmente occhio alla notizia alle 20 e 30 grazie buon proseguimento di serata a tutti voi grazie